Sanità dopo l'accorpamento e la creazione della nuova ULSO 8 Berica è necessario che tutti i sindaci dei 61 comuni afferenti all'azienda sanitaria per una popolazione di quasi 500.000 abitanti si esprimano e diano indirizzi precisi sulle linee da seguire nella riorganizzazione della sanità a cominciare dal comparto del sociale più che mai a rischio. La spesa sociale è oggi sempre di più in capo ai comuni e diventa un problema sostenerla. Come commissione abbiamo quindi ascoltato e abbiamo rilevato alcuni punti che secondo noi devono ancora essere approfonditi e soprattutto possono essere migliorati che riguardano soprattutto l'assistenza degli anziani, l'assistenza dei disabili e soprattutto la medicina territoriale. Dopo l'incontro dei giorni scorsi la commissione consigliare è pronta a avanzare precise richieste perché venga tutelato il bene dei cittadini. Con questa nuova azienda Zero sono state razionalizzate, cioè ci sono meno figure apicali e sono state liberate risorse anche significative. Noi vogliamo che queste risorse siano messe in infermieri, operatori, sociosanitari nell'assistenza agli anziani e anche e soprattutto l'assistenza domiciliare che sarebbe molto importante. Grazie. 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 Grazie.